Bella ragazzi siamo tornati dopo il video proprio del TORDELLO perchè non saprei com'altro definirlo di 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 shishish di de di po' camiseria di OPS, problemi tecnici, pubblicità siamo tornati su Minecraft questa volta sul multiplayer perchè se no il single player ci farà sclerare nei peggio modi Allora entriamo nel questo server e tra l'altro quello consigliamo perchè è molto bello insomma c'è di tutto c'erano anche le lucky wars ma adesso l'hanno tolto non so perchè assieme giusto ci dobbiamo registrare e mi dispiace ma non potete vedere la mia password perchè sennò dopo io ho di scala ok perfetto registrazione avventata in successo bella proprio bella in giocci a cominciare allora intanto e che dopo ho fatto questo per la prossima e poi non senti e non è che possiamo giocare il tuo scuolo ma non ho niente non so del disco giornati dei stai la testa smith se ci fa estremato la fumo ma quattro il baird mamma non è vero ma è bello quando si muove 8 bambina però lo diciamo con scopo come datemi problemi dove il problema per fare di come si chiama max di game nessuno quanto fa caso non sono comandato 45 secondi inizierà la partita fra 30 secondi inizierà la partita 25 secondi inizierà libri ciò che ciò che ciò che interessa intervento 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 ciò che è si inizia subito 2 1 per chi non lo sapete sta giocando mega murky mega murky mega murky mega murky vediamo magari un pochetto più forte peggio murky scuola di tutto what oh ma non mi funziona veramente ora si prima non mi funziona una cosa è vita di merda veramente quanto non funziona scuola 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 un po' più pare schifo mamma mia e non mi funziona ovviamente ma forse so forse so perché subito la tua mente tutto al massimo no tanto perdiamo chi se ne frega sai 32 sveglianza su youtube protistico po' più se poi è stato 20 scuola che danno fastidio non sono tutte le altre varie robe spazio non possiamo sconare roba spazio il genio del mare spazio il genio del mare non è capitato niente di brutto questo spazio il genio del mare spazio il genio del mare spazio genio del mare genio del bene noi facciamo jacob esatto lo faccio sempre io lo prendi e lo vedi là sotto oh yeah molto più veloce faccio jacob questo qui spacchiamo questo qui spacchiamo spaccati 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 intanto no qui serve la spada proprio di cattiveria poi provate a dire che non si muoca esatto purtroppo spazio 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 che ha meno cittiveria e' il minuto del merda non è colpo mio e' esplorato a caso e' vita di merda oh abbiamo capito eh e' vita di merda la tua che hai sponato prima, di tutto io non ho visto niente di niente, poi hai sponato dopo ti immagino amma mia ma c'è un lag generale quando la puoi capire c'è la gente che pia poco non c'è il nostro gol, che ci difende vero allora guarda, amma mia fai gli schifo abbiamo uno schifo che fa schifo, vare che non ti pago stipendia oh ma, allora ti metti guarda metti che questo lì si porta i maiali in testa non mi amo, sono sempre io avevo tagliato moltissimi forse se cibi chi nella spugna non riesco l'uomo la mano un bel giro no 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 che è che è allora ok allora io pfff iiii 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 il freddo iiii 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 più iiii iiii il mio avanti intanto mi mangi il cibo il cibo guarda che caccia ci fai dato dopo devi tornare dietro a spaccarli tutti tu hai superato questo è deficiente finì partita finita eppuretta mamma mia compa mia sono tutti deficienti mi sono arrivati trotto zumbito vatti non so poco po no no non ci mangi la cosa non distorbe problemi che hai pubblicità te lo chiamo e al prossimo video ciao ragazzi te lo chiamo al prossimo video bella ciao ciao ciao